2.457 nuove piantumazioni, 40 siti di intervento, 232 giochi e aree antitrauma sono i numeri essenziali del piano straordinario di potenziamento dei parchi cittadini a Pescara presentato dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore al Verde Gianni Santilli. Un intervento hanno detto senza precedenti sia per ampiezza che per investimenti. Noi teniamo a questa conferenza stampa perché vogliamo mettere a conoscenza della nostra cittadinanza di tutto il lavoro che stiamo facendo all'interno dei parchi che ne sono 64 più altre 20 aree verdi più tutto il lavoro che stiamo facendo per le nuove piantumazioni per la nostra città. La situazione qual è? Allora, da quando ci siamo insediati noi avevamo un patrimonio arboreo di circa 25.000 piante. Poi durante questi quattro anni qualche pianta è stata eliminata o perché morta o perché pericolosa però adesso con dei progetti che abbiamo in atto risolveremo questa problematica e alla fine della nostra consigliatura riusciremo ad avere un margine di 1.200-1.300 piante in più. Più verde e meno buchi ha detto il primo cittadino a margine della conferenza stampa nel campetto sportivo di via Rigopiano. Io direi molto 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 più verde e molte 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 meno buche perché questo è il processo che noi abbiamo avviato sia con le opere di asfaltatura che oramai andando verso la bella stagione si sono intensificate notevolmente. È un verde che è molto potenziato perché noi ci siamo divertiti a contare le piante che abbiamo messo e metteremo fino al 2023. Abbiamo superato le 3.000 unità di piante. Diciamo che oggi le piante pareggiano il numero dei bambini nati a Pescara in questo periodo. In più sulla questione Buche aggiunge il sindaco Masci sono stati avviati i lavori nella zona sud di Pescara di sistemazione del manto stradale e aggiunge proseguiremo nei prossimi mesi in maniera intensa sul maggior numero di strade per dare risposte ai cittadini. Sulla asfaltatura della città abbiamo detto che sta partendo il più grande intervento mai verificatosi grazie anche ai fondi del PNRR che noi abbiamo intercettato e quindi avremo tantissimi lavori in città. Anzi io mi scuso sin d'ora del disagio che casomai potremo provocare perché ci saranno cantieri, ci saranno transenne ma spiegheremo tutto e cercheremo di ridurre al minimo i disagi. D'altronde siamo partiti con la bandiera blu che mi auguro riconfermeremo prestissimo e quello è stato il sigillo di garanzia di una città che guarda avanti dal punto di vista ambientale e abbiamo proseguito su quel discorso.